Ma soprattutto c'è una categoria di persone che ha vissuto il lockdown che ha sofferto moltissimo il lockdown, una categoria di persone che ha vissuto l'inferno e che sono le persone che hanno figli, cioè i bimbi e bimbi, soprattutto bimbi e bimbi piccoli. Perché vivere il lockdown 24 ore su 24 con i bambini... Non so se avete figli in sala, c'è gente che ha figli. Quindi, io vedo delle mascherine che si muovono, non fate come Fontana. Voi avete figli? Allora se posso darvi un consiglio, non li fate, non servono un cazzo. Se puoi scegliere, prendi un cucciolo, fa compagnia, muore prima, perché i figli mangia oggettivamente meno e se lo meni poi non c'è il senso di colpo. Cioè, davvero, lo puoi lasciare a casa senza preoccuparti, pagare la babysitter, cuccioli, cuccioli tutta la vita. Cioè, figli, ok? Un consiglio, cioè, prendilo per buono. E anche perché per una coppia come la mia siamo lavoratori, lavoratori autonomi entrambi, insomma, artisti, lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, quindi per noi il lockdown è il top, proprio sentiamo l'Inps proprio come amici. Già, come va? Il lockdown è una cosa perché di per sé, già quando si ha figli, cioè, fare sesso con i figli è difficile. Cioè, volevo dire, fare sesso con i bambini, quando... Non so, non sta a me giudicare. Però fare sesso quando si hanno i figli è una questione molto complessa. Perché diventa tutto difficile, lo devi programmare. Io ne ho due, molto piccoli. Quando sono piccoli, hanno il radar, i piccoli bastardi. Lo sentono, sentono, proprio sentono il profumo del sesso come Richard Giro quando faceva il gigolo. Non ride nessuno, ma a me questa cosa fa molto ridere perché Richard Giro in una scena dice non farti la doccia, voglio che tutti sentano che abbiamo scopato. Che è una cosa che mi ha sempre fatto molto ridere perché, cioè, non è che se tu fai sesso e poi esci, la gente sta così in giro. Però, se l'ha detto Richard Giro, io mi fido. Perché sicuramente avrà visto più figa e cazzi di me. Di me e del Papa. Lì è una lotta, ma... E quindi loro sentono l'odore, proprio sentono l'odore che stai per fare qualcosa alla madre. E quindi, a parte che loro hanno questa cosa che si svengono di notte per andare a pisciare e chiedono il permesso. Che è una cosa che mi fa innervosire tantissimo perché, cioè, figa, non sei ad Alcatrazzi, devi andare in bagno, vai a pisciare. Io sto dormendo, così, e sento sta presenza nel buio. Tra l'altro il mio piccolino è pallido, magro, così. Che nel buio mi fissa, mi sveglia. Che cazzo vuoi? Devo fare una pipì. E vai, vai a fare in culo, ma vai a pisciare, stai a chiedere il permesso. Ah che sei in galera, cazzo. E per lo stesso motivo, alla fine, alla fine. E per lo stesso motivo, per lo stesso motivo, loro sentono l'odore proprio della madre a pecorina e quindi arrivano. Arrivano. Quindi che cosa fai? Per far sesso quando hai dei figli, non con i figli, ci sono tre regole da seguire. Mai da dietro, mai a pecorina. Perché se il figlio e la figlia arrivano, cioè, è difficile da maschierare. Perché, no, ve lo spiego, perché, allora, missionaria, classica, l'uomo sopra, lei sotto, cioè, se arriva il figlio che ti becca, tu fai finta di dormire. Tanto i bambini sono scemi, non capiscono un cazzo. Quindi dice, ma papà, cosa fa papà? E sai, papà lavora tanto, è stanco, si è addormentato. Se la mamma sta sopra, uguale. Cioè, e poi a quel punto anche il padre, perché non ci ha voglia di rispondere, anche lui fa finta di dormire. Se la madre ti cavalca, invece, no, spegni candela, insomma, è detto in italiano. Lì puoi fare, oh, che arrivo, yuhu, yuhu, che state facendo? No, stiamo giocando ai cowby, vaffanculo. Ma, da dietro, a 90, lì è difficile. Perché, innanzitutto, la minchia, il cazzo, insomma, la bestia, il membro, si vede. E quindi, tu stai lì, cioè, che lui ti dice, no, no, non guardare giù, non guardare giù, non guardare giù, non guardare giù, non abbassare lo sguardo. No, che cosa fai così? Cosa fai? State giocando? Ma cosa stai facendo all'unculetto della mamma? Vale a spiegare che prenderla dietro non vuol dire per forza inculare. Cioè, è tutta una serie di problemi. Quindi, a pecorina, da dietro, non conviene, d'accordo? Non conviene, anche perché lo devi programmare. E noi lo programmiamo, che è una roba bruttissima programmare il sesso. Però, che cosa facciamo? Lo programmiamo perché, vaffanculo, decidiamo, stasera si tromba, li mettiamo a dormire. Io faccio una cosa, non lo dico alla mamma, per favore non esca da qui. Io gli, quando decidiamo, io gli metto la grappa nell'acqua e gli faccio inalare il gas dell'accendino. Così, vaffanculo, si stendono e dormono. E io già, già dalle sette e mezza, perché quando siano i figli si mangia come le galline, alle sette. Già dalle sette e mezza stai lì, io sono già cittadino, tanto che il tavolo si alza senza mani, no? Quindi, stiamo lì, aspettiamo il 12 e mezza, dai, arriva il lungo, arriva e... Devo fare la pipì. Ovviamente io sto così. E soprattutto, lo faccio perché ho avuto un incubo. Una volta ho fatto questo incubo terribile, ho sognato che stavo lì, la stavo prendendo la mia ragazza da dietro, a Pecorella. E fa molto ridere, perché Pecorella poi ricordano il presepe. Abbinare il presepe con chiavare è sempre una cosa, secondo me, bella. Quindi sto lì a Pecorella e ho fatto quest'incubo terribile, dove ho sognato che arrivava lui e mi fissava, e mi fissava e poi, tra l'altro noi non abbiamo nonni, quindi ci rismazziamo H24 durante il lockdown sempre. Quindi l'unica nonna che abbiamo è mia madre, che è pugliese, vive al sud. Quindi non viene mai, viene pochissime volte a trovarci, perché ovviamente essendo pugliese non sa prendere i mezzi, non sa leggere i cartelli. Però avevo fatto quest'incubo che lei era venuta a trovarci e lui ci aveva beccato proprio nei giorni in cui c'era mia mamma, mia mamma da trovarci, e però lui si era andato a chiudere in camera. Io avevo detto, cara, adesso me la vedo io, e mentre andavo in cameretta per andare a vedere che cosa fosse successo, sentivo dei rumori, aprivo la porta e vedevo lui che si stava facendo mia madre da dietro, e diceva, ma lo vedi che non è così bello quando è la tua di mamma stare sotto? E quindi dopo aver fatto quest'incubo ho deciso mai più a pecorina se ci sono loro. E i momenti dove puoi farlo così liberamente, nudi, urlare, dire... E di mattina, quando loro vanno... Lo farò fin quando ridete, perché... Di mattina, quando vanno alla scuola o all'asilo, e che per noi proprio quelle ore non chiamano neanche accompagniamo i bimbi a scuola, no, accompagniamo i bimbi all'orario per chiavare. E quindi se sono a casa, H24, è la fine, vuol dire non chiamarli più. Ed è per questo che durante il lockdown, un giorno ho avuto un momento in cui proprio mi sono esaurito, e loro continuavano a chiedere le focaccine con le olive, le focaccine con le olive, le focaccine con le olive. Perché i bambini hanno la fissa di voler le focaccine con le olive. Perché poi che cosa vuol dire? Che mangiano le focaccine con le olive, le mangiano, poi stanno lì a scartavetrare l'olivetta con i loro ditini di merda, poi mangiano tutte le olive, poi dicono, non ho più fame! E un giorno ho detto, andate a fare in culo, adesso andiamo alle idol, prendiamo un barattolo di olive, così vi strozzate con le olive, vi ingozzate in salmoglio e morite, vaffanculo, e torno a chiavarmi vostra madre in libertà. Ma soprattutto, quando ormai ne ho chiesto di prendere tre focaccine, perché così una la diamo alla mamma, io ho detto, no, vostra madre non vuole la focaccina, vostra madre vorrebbe il cazzo, vostra madre vorrebbe il cazzo. Il problema, il problema di parlare così ai bambini, io mi riferisco a voi perché non avete figli, quindi caso mai li aveste vi do questi consigli. Però, mi raccomando, cuccioli, il problema di avere figli è che devi stare attento a come parli, perché quando io ho detto alla bimba piccola, tua madre vorrebbe il cazzo, la mattina dopo lei è andata all'asilo, la mamma vuole il cazzo, la mamma vuole il cazzo! E quindi la maestra mi ha richiamato all'uscita dicendo, papà, che poi è una cosa che tu quando sei padre dei bambini piccoli diventi papà, cioè io ho detto, ma io sono Luiz, che come cazzo ti permette di chiamare mio papà? E' successo una cosa, la bimba è tutto il giorno che dice, la mamma vuole il cazzo, la mamma vuole un cazzo, la mamma vuole un cazzo, e ho detto, meno male che non ne vuole due. Cazzo, voglio il cazzo! C'era Iron Man che diceva Hulk, voglio il cazzo! E io ho detto, vabbè, ma hai spiegato la teoria gender in un attimo e hai risolto. Ma soprattutto c'è da stare attenti anche al linguaggio. Io sono uno, lo confesso, sono uno che bestemmia, cioè ogni tanto mi scappa, anche in casa. Cioè se cade una forchetta io bestemmi, cioè se mi prude il culo bestemmi. Cioè sono uno che comunque, anche il papa l'ha detto, cioè è meglio bestemmiare che atei. Io poi sono tutti e due, quindi ogni tanto bestemmio. Quindi una mattina la maestra mi ha richiamato, il libero andava ancora all'asilo, e mi ha detto, papà è successa una cosa molto brutta, e il libero ha detto una bestemmia. Io ho detto, guarda, non so come possa essere successa questa cosa, mi fa stare molto male, guarda. Perché è tutto, ma le bestemmie in casa mia no. E posso sapere come mai? Eh, ha detto, ma cosa ha detto? Eh, no, no, ma cosa ha detto? Ha detto, porco, ma perché? Eh, aveva fatto questo disegno gigante, aveva attaccato tanti fogli, aveva fatto tutta una cartina dei pirati, poi aveva costruito con la carta delle piccole navi, poi è arrivato un bambino, e gliela ha stracciato, e gli ho detto, eh, porco Dio, ha fatto bene, cazzo. Quindi, no, va bene, adesso sì. Applausi 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 Applausi